Buongiorno a tutti, siamo qui da Venaria Reale, in diretta della Festa delle Rose, con il Sindaco Falcone. Buongiorno Sindaco. Buongiorno a tutti. Allora, ci racconti di questa nuova edizione, che ormai è già diventata quasi adulta. Corretto, abbiamo la quindicesima edizione della Festa delle Rose, 2017, edizione che ha all'interno la seconda puntata di Fragranzia. Ovviamente la manifestazione è legata alla rosa, ai fiori e a quello che può essere il profumo in genere. È un evento eccezionale per la città di Venaria, da quando questa amministrazione da due anni ha preso in mano il governo della città, ha cercato di spingere su queste manifestazioni che fanno conoscere al territorio piemontese, quindi attirano turisti, attirano anche i cittadini a vivere in maniera più intensa quello che è il centro storico. Con grande successo, siamo assistiti anche da un tempo meraviglioso e quindi invitiamo tutti quanti le persone che possono partecipare, che hanno piacere di trascorrere qualche ora con familiari, amici e in tranquillità, all'interno della città, visitare questa fiera e divertirsi insieme a noi nel vedere e nell'assaporare anche la parte no gastronomica della manifestazione. Allora grazie sindaco, un saluto da tutti i lettori di Torino oggi e degli amici di Venaria. Bene, grazie a voi, vi aspettiamo numerosi.